Ciao! In questo video scopriremo la top 20 delle migliori citazioni di Jane Austen, scrittrice inglese dell'Ottocento, autrice di romanzi come Orgoglio e Pregiudizio e Ragione e Sentimento. Le sue citazioni esprimono saggezza e ironia sulle relazioni umane e la società. Non c'è fascino pari alla tenerezza del cuore. Non c'è niente che non farei per quelli che sono veramente miei amici. Non so amare le persone a metà, non è nella mia natura. Non è quello che diciamo o pensiamo che ci definisce, ma quello che facciamo. L'amicizia è certamente il migliore balsamo per le piaghe di un amore deluso. Non voglio che la gente sia troppo simpatica, così mi risparmia il fastidio di cercare di piacergli. È molto ingiusto giudicare la condotta degli altri, senza una conoscenza intima della loro situazione. La vita sembra solo una rapida successione, di indaffarati nulla. Vi è un'ostinazione in me che non tollera di lasciarsi intimidire dalla volontà altrui. Il mio coraggio insorge a ogni tentativo di farmi paura. Le nostre cicatrici ci ricordano che il passato è reale. È molto difficile per i ricchi essere umili. La conoscenza di sé è il primo passo verso la maturità. Ci sono tante forme di amore, quanti sono i momenti nel tempo. L'egoismo deve sempre essere perdonato, perché, sapete, non vi è alcuna speranza di guarigione. La vanità, quando lavora su un cervello debole, produce ogni tipo di danno. L'immaginazione di una donna è molto veloce, salta dall'ammirazione all'amore e dall'amore al matrimonio in un momento. Sedersi all'ombra in una bella giornata e guardare in alto verso le verdi colline lussuriggianti è il miglior riposo. Nessuno di noi vuole stare in acque calme per tutta la vita. Pensa al passato soltanto quando le ricordarlo. Ti può dare piacere. Una metà del mondo non riesce a capire i piaceri dell'altra metà. Vanità e orgoglio sono cose molto diverse, benché le due parole siano spesso usate come sinonimi. Si può essere orgogliosi senza essere vanitosi. L'orgoglio si riferisce più all'opinione che abbiamo di noi stessi. La vanità ha quella che si vorrebbe che gli altri avessero di noi. Abbiamo provato a raggruppare le migliori citazioni di Jane Austen. Le sue citazioni ci ispirano a cercare l'amore vero e profondo, a non temere di essere indipendenti e forti. Ci piacerebbe sapere quale di queste frasi ti è piaciuta di più. Commenta qui sotto e non dimenticare di iscriverti al canale se ancora non lo hai fatto. Ti ringraziamo per la visione.